Il servizio metro sarà attivo fino alle 2.30 di notte, mentre i bus di superficie avranno la sospensione del servizio normale e regolare alle 21, ma dalle 21 alle 2.30 ci saranno 18 linee aggiuntive speciali che collegheranno le periferie al centro, comunque le periferie a Lungotevere o verso i principali nodi di scambio. Il servizio riprenderà poi la mattina del 1 gennaio alle 8. Il Campidoglio ricorda anche che romani e turisti potranno contare sui servizi taxi e car sharing.